Che cosa succede quando andiamo in menopausa? Abbiamo dati molto belli di uno studio prospettico della professoressa Lorraine Dennerstein di Melbourne in Australia, la quale ha dimostrato proprio studiando le donne tutti gli anni con questionari validati, esami obiettivi, eccetera, che già dal terzo anno dopo la menopausa, ben il 44% riporta una secchezza vaginale rilevante per la loro vita di coppia. Quindi pochi anni dopo, tre anni, già la metà del donne, possiamo dire, ha una secchezza vaginale significativa. E in Italia che cosa succede? Bene, in Italia abbiamo un dato che ci inquieta ancora un po' di più, perché le donne hanno una sindrome genito-urinaria, ossia la presenza non solo di secchezza vaginale, ma anche di sintomi sessuali, quindi secchezza durante il rapporto, dolore alla penetrazione e sintomi urinari di urgenza menzionale e di cistiti che compaiono 24-72 ore dopo il rapporto, questa è la sindrome genito-urinaria della menopausa, presenti in una vasta maggioranza delle donne. Parliamo di 79% delle donne in post-menopausa che, in questo studio italiano molto ben pubblicato, presentano una secchezza vaginale rilevante, ma anche sintomi sessuali, come dicevo, e urinari. Cosa ancora più inquietante, le donne sedentarie, io insisto sempre sull'attività fisica, almeno camminare un'ora al giorno, hanno un rischio quasi doppio di essere colpite da questa sindrome, un od ratio di 1,8, ma la cosa più interessante è che le donne con secchezza vaginale hanno una più elevata frequenza di infezioni vaginali, quasi tre volte tanto. Il farmacista spesso è l'interlocutore sanitario che per primo viene una donna che continua a tornare, dottore o dottoressa, c'è sempre la vaginite. Vaginite atrofica, ma noi sappiamo che è effettivamente una vaginite e lo vediamo in un secondo. Quindi, importantissimo dare a queste donne, anche italiane, una risposta qualificata, perché non abbiano questo sintomo, continuamente secchezza, infezioni e disturbi della funzione sessuale urinaria. Cosa succede in particolare in menopausa? Non è che abbiamo solo secchezza, c'è un sovvertimento di tutta l'architettura della parete vaginale e in effetti voi vedete alla vostra sinistra, diciamo così, la vagina normale che ha tutte queste rughe. Io spiego alle signore che le rughe in realtà sono un plissè. Questo plissè consente alla vagina di distendersi durante il rapporto sessuale, adattandosi perfettamente al membro maschile, ma consentono anche alla vagina di dilatarsi enormemente durante il parto per accogliere il passaggio del bimbo senza lacerarsi se il parto è molto ben seguito. Bene, tutto questo plissè scompare con la menopausa, quindi si assottiglia la mucosa, scompare il plissè, ecco che la vagina diventa rigida e può addirittura lacerarsi anche gravemente se la donna per esempio non ha avuto rapporti per qualche anno e poi ha un nuovo compagno. E ancora scompare, si altera completamente l'ecosistema, il microbiota di questa vagina. In particolare, volendo rappresentare visivamente quello che succede perché così diventa tutto più semplice, voi vedete alla vostra sinistra che l'epitelio vaginale è costituito da un epitelio, diciamo, pluristratificato, fatto da tanti straterelli di cellule come i muretti di mattoni che noi vediamo nei giardini. Bene, dopo la menopausa questo muretto, questo spessore si assottiglia e noi abbiamo solamente la membrana basale e poi le cellule più vicine alla membrana basale. Questo è molto importante perché nel pap test noi vediamo la modificazione del tipo di cellule che troviamo che ci dice se abbiamo una vagina ben estrogenizzata, in quel caso avremo le cellule superficiali, quelle a tutto spessore, le più alte, e invece in post menopausa nel pap test noi andiamo a trovare solo cellule basali e parabasali. Quindi ecco la base fisiopatologica per capire poi l'elemento clinico della variazione del tipo di cellule che noi andiamo a trovare nel pap test. Ma vi parlavo di vaginite, vaginite atrofica e abbiamo detto che dietro ogni ite c'è un'infiammazione. In effetti questo studio molto interessante di Donders ci fa vedere che con l'assenza di estrogeni dopo la menopausa noi abbiamo un aumento del pH vaginale che andrebbe sempre misurato, io lo misuro in tutte le donne, che si muove da un 4-4,5 che è la normalità, sale progressivamente fino a 6 o più, fino addirittura oltre 7 nella post menopausa. Ma in proporzione all'aumento del pH noi abbiamo una progressiva riduzione dei microrganismi più amici della salute genitale femminile, i lattobacilli. Con la riduzione dei lattobacilli si riduce drasticamente l'acido lattico prodotto dai lattobacilli trasformando il glicogeno che viene prodotto dalle cellule della mucosa vaginale. Ed ecco il dato ite uguale infiammazione. In effetti con l'aumentare della menopausa, la riduzione dei lattobacilli, l'aumento del pH, noi abbiamo un incremento di 6 volte dell'interleuchina 1 e di 4 volte dell'interleuchina 8 che sono citochine infiammatorie. Questo perché ci interessa? Perché la misurazione del pH come vedremo negli studi clinici è un altro indicatore sintetico di molte modificazioni che abbiamo visto in dettaglio. Quindi più si alza il pH più io so che ho pochi lattobacilli, che ho molta infiammazione e che la mia mucosa è sempre più soltile, è sempre più vulnerabile a secchezza e lacerazioni. E infatti eccola qui la nostra mucosa. Quando parlavo di architettura del tessuto, questa è la membrana basale con le celluline parabasali, queste sono le cellule superficiali, ma la parete è fatta anche di sottomucosa, di tessuto muscolare liscio, di vasi. E guardate quanto è ricca la rete di vasi che c'è nella nostra vagina. È ricchissima. Ecco perché la lubrificazione, quando una donna è ben eccitata, si realizza in una frazione di secondo. Perché? Perché basta che arrivi lo stimolo a quelle famose fibre vipergiche e nitrergiche ed ecco che noi abbiamo una vasodilatazione e la parete, l'endotelio, le celluline che rivestono i vasi lasciano trasudare il liquido che ci dà una copiosa lubrificazione vaginale. È evidente però che perché questa lubrificazione ci sia deve arrivare uno stimolo e deve avere dei recettori estrogenici preparati o dalla presenza di estrogeni o dalla presenza di un modulatore selettivo del recettore estrogenico, come per l'appunto lo spemifene. Ultimo concetto sulla comorbilità tra secchezza vaginale, distrofia vaginale, atrofia vaginale, sintomi sessuali e abbiamo detto sintomi urinari. Perché? Ma perché i recettori per gli estrogeni sono presenti in tutti gli organi del corpo e in particolare sono presenti a livello di uretra e parete vescicale. La carenza di estrogeni si traduce in un assottigliamento anche della mucosa dell'uretra in una sofferenza dell'urotelio che è l'ipitelio, la mucosa che riveste all'interno la vescica si riduce anche la ricca rete di vasi che abbiamo anche intorno alla uretra e si riduce anche il corpo spongioso dell'uretra che è l'equivalente del corpo spongioso del maschio molto più piccolino che congestionandosi con l'eccitazione costituisce una sorta di airbag che protegge l'uretra dal trauma, tra virgolette, meccanico della penetrazione. Se noi non abbiamo questa congestione perché non abbiamo più gli estrogeni e il testosterone ecco che l'uretra diventa vulnerabile al trauma, tra virgolette, del rapporto ed ecco i sintomi uretrali, il bruciore ma soprattutto le cestiti che compaiono 24-72 ore dopo il rapporto. Quindi abbiamo una situazione di vulnerabilità potremmo dire condivisa tra la vagina che va incontro a tutti i cambiamenti che abbiamo visto ma anche l'uretra e la vescica che ci spiegano appunto la sindrome genito-urinaria della menopausa. In effetti abbiamo evidenze anche per i recettori androgenici in vagina